La Stroke Unit del Neuromed di Pozzilli, diretta dal dottor Antonio Sparano, tra i punti di riferimento per la diagnosi e la cura dell'ictus. L'attestato di eccellenza attribuito alla clinica molisana promana da una ricerca che ha valutato le strutture sull'intero territorio nazionale. Al fine di individuare le migliori strutture per l'ictus, That Morning, il sito specializzato che analizza i risultati clinici degli ospedali, le pubblicazioni scientifiche, il profilo professionale dei medici e le notizie di cronaca, per elaborare poi valutazioni basate esclusivamente su dati statistici, ha attivato un tavolo di confronto con i neurologi in tutta Italia. L'obiettivo è quello di condividere criteri omogenei di confronto tra le varie neurologie e stroke. È un ospedale grande e questo è un vantaggio perché le strutture più grandi generalmente possono sostenere i costi delle professionalità e delle tecnologie necessarie a garantire il massimo livello di efficienza e sicurezza. È un ospedale specializzato che gestisce molti pazienti in reparti specializzati. Queste le valutazioni di fondo apparse sul sito That Morning che hanno fatto meritare all'Istituto Neuromed un ulteriore riconoscimento a livello nazionale.